Allora, eccoci qui di nuovo dopo un po' di tempo dall'ultimo esperimento che stiamo facendo con Streamyard di queste registrazioni al volo. Abbiamo deciso di estenderlo anche alle video recensioni. Ovviamente questo è un periodo clou per le uscite perché abbiamo ovviamente le nuove console e quindi di conseguenza questi si portano appresso una marea di nuovi titoli AAA molto molto importanti. Tra questi ovviamente abbiamo quelli di Ubisoft che sono puntualissimi ogni anno e coprono la finestra invernale di novembre-dicembre. Quest'anno ne abbiamo addirittura due, abbiamo Valhalla che esce a brevissimo e abbiamo invece Watch Dogs Legion che scade adesso l'embargo. Praticamente in realtà stiamo registrando prima ma questo video uscirà quando scatterà l'embargo e ho con me il nostro caro Filippo che lo ha recensito. Ciao a tutti, ciao Simone. Allora, Watch Dogs Legion che è un titolo molto ambizioso, questo direi in partenza lo è fin dal concept perché laddove il primo e il secondo erano molto molto classici come impostazione, questo voleva magari proporre qualcos'altro con il modello della folla che potevi andare per esempio, che puoi andare a reclutare determinato NPC, aggiungerlo al tuo esercito, alla tua legione e di conseguenza andare a liberare una Londra distobica di questo futuro appunto molto orwelliano. Quindi la prima cosa che volevo chiederti assolutamente è il concept, cioè cosa ne pensi del concept del gioco, se effettivamente ha un senso logico portarla avanti in quel senso oppure se quell'ambizione è totalmente andata a quel paese e ha fatto collare il progetto. Beh, considera che il Legion non si riferisce tanto alla squadra perché poi di squadra si tratta che puoi creare tu perché c'è un limite alle persone che puoi mettere a recluta e utilizzare, scambiare l'uno con l'altro ma è più pensato anche all'azione e alle conseguenze che le attività di questi attivisti hanno poi sulla popolazione di Londra perché ci troviamo appunto in una Londra distopica dove una milizia privata a seguito di alcuni attentati terroristici che hanno gettato gli abitanti nel terrore, una milizia privata ha assunto il totale controllo della città, allo stesso modo alcuni clan mafiosi hanno approfittato dello sbaraglio del governo e delle forze di pulizia standard per guadagnare altro potere e quindi ci sono dei cittadini che da entrambi i fronti, sia dalla parte della malavita che da quello lì delle forze dell'ordine private, subiscono un'oppressione. Il concept è ambizioso, nel senso che si è passati da quelle che potevano essere delle cellule terroristiche ben strutturate come quelle lì del Delsa e che li vuociono due. Del primo e del secondo. Nel primo erano più sotto traccia, nel secondo invece diventano un pochino più strutturane. Sì, anche i più protagonisti rispetto al primo. Marcus è del DedSec. Nel secondo, in pratica, noi siamo la cellula DedSec di Londra che nella sua formazione iniziale è stata sgominata ed è quindi il momento di farla rinascere con i cittadini che non ne possono più. A livello ideologico è un messaggio bellissimo. Abbiamo dei temi molto attuali che sono appunto quelli dell'abuso delle forze dell'ordine, un governo governato dalle multinazionali, delle minoranze etniche che vengono disfrattate e quindi il pensiero che poi sia tutto nelle mani dei cittadini comuni, che uno slogan del gioco è Rise Up and Resist. È molto bello, ci fa capire, trasmette il messaggio che dobbiamo essere anche noi con le nostre azioni a renderci conto e protagonisti del cambiamento. perché poi il problema principale è che quasi sempre si dice, vabbè, ma cosa posso fare io nel mio piccolo rispetto a una situazione che è così più grande nel mondo? E invece le azioni di tutte, di tutti, contano, sono importanti. Il concept è ambizioso. Esatto, quindi questa è una parentesi. Quindi diciamo che teoricamente... Tutto molto bello. Tutto funzionale, tutto molto bello. Tutto molto bello. Il gioco migliore del mondo, teoricamente. Sì. Invece nel pratico il gameplay, mi hai detto, che soffre molto di repetitività anche in questo concept, che magari dovrebbe paradossalmente offrire un po' di varietà, perché per esempio, mi immagino, le classi che scegli, no? All'interno tra i vari NPC, no? Sono tutte varie classi diverse, in teoria. Quindi dovrebbero dare un feedback del gameplay diverso o approcci comunque diversi alla missione, a seconda della passione, degli attributi. È tutto molto contrastante, perché in realtà non esiste nulla di tutto questo, ma il principio è, il concept è bellissimo. Persone comuni che si raccolgono e decidono di ribellarsi contro l'oppressione. Tipo questa vecchia che vediamo nel video. Però sono persone comuni, sono questa vecchietta con la sua gonne, le sue scarpe con i tacchi, che mette questa maschera, si inserisce in questo cantiere, dove sono di pattuglia 5, 6, 7 unità armate, fine i denti, che stanno proteggendo un ostaggio. Quindi sono anche in stato di allerta, non è che si tratta di persone messe lì, di pattuglia che sono pure stanche, ma sanno di avere un elemento di interesse, e si intrufola, inizia ad hackerare a destra e a sinistra, tranquilla. Alla fine vedremo che con l'aiuto dei droni, con l'aiuto delle trappole che hackeriamo per farle esplodere al contatto con i nemici, riusciamo tranquillamente a liberarlo. Ed è poco plausibile che il senzatetto, l'operaio, l'infermiera di turno riescano o abbiano poi le intenzioni di imbracciare le armi, buttarsili in mezzo, perché se mi sparano muoio. E qui si inserisce anche poi il tema del permadette, che è uno degli elementi interessanti. È opzionale, questa è una cosa molto molto strana, cioè ne parlavo anche con qualche altro collega che lo sta recensendo, è davvero molto molto strano, perché dovrebbe essere una delle meccaniche fondamentali del gioco, nel senso che il concept stesso si basa sul concetto che attuai un grande numero di persone e di conseguenza se la perdi una, sti cazzi, devi lavorare con le altre. Però il fatto che ci sia per me detto comunque ti obbliga a avere un minimo di strizza quando vai a fare le missioni. E così, se decidi di attivarlo, ovviamente c'è però un problema di fondo, ovvero il gioco in alcuni punti è stranamente punitivo, ma proprio a livelli che dall'improvviso, senza che tu abbia alcuna visaglia, sei circondato e magari il tuo attivista non è nemmeno armato, non ha nemmeno una dotazione come questa simpatica vecchietta con la capa, perché poi non è che puoi darglielo, non è che siccome ho reclutato qualcuno con la capa 47, allora ho dato la capa 47 a questa vecchietta. Lei è arrivata in squadra così, aveva un calacinico. E quindi è punitivo e il permadette significa che tu quell'attivista lo perdi per sempre. Tra l'altro alcuni attivisti sono unici. Ci possono essere giocatori che non sono tanto propensi a dire, dopo che ho fatto la fatica per reclutarlo, mi muore magari perché tu decidi di farmi morire per forte. Poi è chiaro che comunque non è che Legion non ha il pubblico di un soulslike, quindi posso pure capire il fatto di addolcire la formula, perché magari per il design del concept ha molto senso che muoiano, punto. Mentre invece però, giustamente, visto che... Quanto meno dare la possibilità, quantomeno dare la possibilità di disattivarla. Io l'ho tenuta attiva quasi tutto il gioco. Esatto. Ho abbastanza inneggiato ad altri posti quando venivo appunto eliminato e perdevo magari l'attivista con cui mi ero abituato, perché poi gli attivisti non hanno un grande character design, non è che hanno una profondità pazzesca, sì, ci sono tanti accenti, ci sono... In scrittura dici anche a livello artistico, quindi quando parli di character design. Sì, non è che siano così profondi. Purtroppo oggi, mentre scrivevo la recensione, veniva da dire tanta quantità, poca qualità, purtroppo. E questo diciamo che possiamo applicarlo, da quanto mi hai spiegato, penso a tutto il gioco, questo discorso. Sì, 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 no, decisamente, decisamente, ma è proprio il concept che ti spinge a fare una roba del genere, perché chiunque può essere reclutato praticamente, quindi non è che potevi fare... L'unico carattere disegnato bene è Bugly, che è l'intelligenza artificiale che ti supporta lungo tutto il gioco. Sì, è chiaro che magari è quell'English humor, quanto cari... Esatto. Esatto. Dall'altro, a questo punto, visto che parlavamo di possibilità e anche di profondità dei personaggi, io mi aspettavo, per esempio, che la trama di Legion fosse molto scontata, nel senso che, essendo, come dire, distribuita su mille e mila personaggi, mi aspettavo che come un GDR, per esempio, per dirvi, è molto più complesso portare avanti una narrativa più strutturata. e in questo caso, secondo me, è molto probabile che sia così, oppure no? Beh, considera che la trama non tange nemmeno di strisce i personaggi, nel senso che i personaggi rientrano nella trama unicamente per una questione legata al fatto che loro sono la ribellione. Poi potresti avere la vecchietta davanti o qualcun altro, non cambia assolutamente niente, cambia qualche linea di dialogo per dargli il carattere, però il principio è che la trama si basa sul concept della ribellione, della resistenza contro una serie di nemici. Poi c'è anche l'evento iniziale, che è spoileroso, quindi non ne parlerò, che spinge ad andare a una sorta di percorso di ricerca verso la fine. È una trama un po' banalotta, permettimi di dire. Non ha degli sviluppi da plot twist, momenti wow, anche il plot twist finale. Non era un thriller politico, insomma. Potevano fare di più. Il discorso è che c'erano degli aspetti del background politico, sociale, dove potevano fare un bel po' di più. E invece secondo me si riduce veramente a una scrittura banale. Non ti dico che mettendoci due giorni lo scriviamo uguale, però non ti sorprende mai e ti aspetti sin dal primo minuto che andrai in quella direzione. comunque. Però la cosa positiva è che quantomeno a livello di game design, di level design delle missioni principali che seguono la trama principale. E quella che stiamo vedendo, giusto? Una delle missioni principali è quella che stiamo vedendo. No, quella che stiamo vedendo è una missione di quartiere. Stiamo liberando uno dei quartieri, quindi è una missione secondaria. Le missioni principali sono fatte benissimo. Si vede che c'è una maggiore struttura, un'attenzione ai dettagli più precise. Cioè è veramente fatto bene. Ti diverti. Anche perché inseriscono molte delle missioni principali, inseriscono degli elementi che poi non ritrovi più in nessun momento del gioco. Che siano legati all'utilizzo dei droni, che siano ad una verticalità del level design particolare, che siano legati ad altri elementi di sneaking, eccetera. Le vedi solo in quelle missioni principali. Mentre le missioni secondarie sono tutte uguali, con veramente pochissime eccezioni, per non parlare di quelle di reclutamento, che sono veramente l'una identica all'altra in pratica. E qui arriviamo al punto della quantità che supera la qualità, insomma. Quindi torniamo un po' al classico modello Ubisoft. Mi fa dispiacere dirlo, perché comunque alla fine è un publisher che ho sempre seguito. Forse uno dei più importanti della mia vita da giocatore, però è pure vero che si sono davvero tanto arenati su modelli di game design, che specialmente nel tempo, una volta che li hai visti magari ripetuti per 20-30 volte, in 20-30 lituri grossi, effettivamente sono complessi da digerire. E sono in una vera impasse da questo punto di vista. Guarda, io onestamente la penso come te, nel senso io ho sempre seguito Ubisoft da decenni veramente, però il principio è che all'alba della nuova generazione, realizzare un gioco fondato interamente sul punto A, inizia la missione, vai al punto B, fai questa cosa, qualche volta vai al punto C, esegui la terza azione, fine, non va più bene. Non è più accettabile, ci si aspetta un'evoluzione del gameplay, anche perché altri concorrenti ci hanno mostrato in mondi simili che è possibile fare di più. Io ogni volta faccio il paragone con Batman Arkham Knight, dove la struttura del gameplay di avvio delle missioni è tutta un'altra cosa in termini dinamici. Anche Arkham City comunque aveva più... Esatto, esatto. Cioè diciamo che Arkham Knight riprendeva da quel modello degli Arkham City. Esatto. Sì, sono d'accordo, insomma, è obiettivo che Ubisoft sia con Assassin's Creed in una maniera diversa, perché Assassin's Creed ha integrato il modello GDR e un pochino si è sbloccato con Origins. Anche se ho dissi un pochino, almeno dal punto di vista di tanti, non tanto dal mio, è di nuovo tornata un po' in quell'impasto, una volta superato questo effetto novità. Watch Dogs ha sempre avuto questo problema, nel senso che non è mai particolarmente cambiato, il secondo è praticamente identico al primo, se non con più hacking e con una narrativa secondo me molto peggiore, insomma, da tutti i punti di vista. E Legion praticamente mi sembra identico da quanto mi racconti, semplicemente con questo concept più... Io sono sicuramente critico, lo vedo spanne sopra Watch Dogs 2, ma non tanto per incredibili meriti di Legion, ma per effettivi meriti di Watch Dogs 2, secondo me. Ci sono alcuni elementi molto interessanti, tra cui i droni, che sono stati realizzati benissimo. Benissimo. Li facciamo vedere, la emissione di codoni che mi avevi detto, dovrebbe essere questa, giusto? Sì, ma anche lì lo stavamo vedendo effettivamente. Qui sto controllando un drone antiterrorismo, che è dotato di addirittura missili e mitraillette, ma ce ne sono di tutti i tipi, e danno un volume a 360 gradi dell'ambiente, che magari ogni tanto si deve esplorare, sempre si deve esplorare, che si stacca dalle telecamere, dalla posizione delle telecamere. Quindi mentre Watch Dogs 1 e 2 erano, vai lì, collegati le telecamere, puoi fare quelle quattro robe lì e sei limitato, con il drone riesci a spaziare, a muoverti molto più liberamente. Quindi i droni sono fatti benissimo. Hanno aggiunto lo spider bot, che da un lato rende tutto troppo facile, ma dall'altro sia... Penso che sia la meccanica più pubblicizzata del gioco in assoluto, lo spider bot insieme. Però è veramente sempre la stessa cosa, cioè ogni missione lancio lo spider bot dentro, fagli fare il giretto, fine. Che da un lato sembra un'occasione di gameplay persa, perché è veramente ripetitivo e poco profondo. Dall'altro è più coerente con il discorso che quantomeno tu, che sei l'operaio, il senza tetto di turno, aspetti fuori e quindi non sempre vai dentro. È più coerente. L'ultima cosa molto bella che secondo me hanno inserito, ma anche lì si sono fermati troppo presto, è la dinamicità di alcuni eventi. Perché il reclutamento degli attivisti può essere fatto o eseguendo una missione ben delineata, oppure mentre si cammina compaiono delle iconcine, ci sono solitamente i soldati nemici che magari stanno facendo un'aggressione verso dei civili, quindi li stanno maltrattando, li stanno arrestando, li spintonano, si notano che avvengono queste cose. Alcuni di questi civili che vengono aggrediti sono magari legati o perché sono il partner, perché sono un amico, perché sono il medico e così via, a una persona che vogliamo reclutare, compare un'iconcina lì, basta fermare l'aggressione, quindi farsi carico poi di bloccare l'aggressore, che automaticamente il reclutamento di quell'altra persona avviene. Questo è molto interessante perché dà un senso di dinamicità e di interconnessione del gioco che merita, perché da che stai camminando a che ti ritrovi un evento dinamico di quello, magari dici no, non voglio lasciare che quella persona venga arrestata o venga malmenata e è bello nella dinamica intera del gioco. Sì, diciamo che aggiunge al classico sistema degli eventi dinamici, degli open world, quindi il fatto che vai in giro, per esempio Spider-Man per esempio accade, no? In cui vai in giro con, per New York e vedi l'evento dinamico. Qui aggiunge il fatto che l'evento dinamico ti porta a reclutare determinati personaggi, quindi apre una sorta di questline relativamente al personaggio e... Esatto, cioè c'è una interconnessione perché tu sai che sto salvando non solo un civile, ma il marito di quella tizia che volevo reclutare. Ti dà un minimo di contesto narrativo all'interno di quel discorso lì. Ma tolto questo, fine. Perché sono eventi dinamici molto scialbi, finiscono come inizio. Sì, sì, è il classico discorso di un open world in cui praticamente la prima volta che vedi l'evento dinamico, mio Dio, carina sta cosa, mi sta divertendo e per esempio anche come Spider-Man, la ventesima volta che lo fai, che coglioni. Esatto, nulla a che vedere ad esempio gli eventi dinamici, che ne so, di un Red Dead Redemption per dire... Sì, e poi vabbè, lì però non era tanto un evento dinamico, lì c'era proprio il lavoro di scrittura dietro gli eventi dinamici, cioè lì era proprio il livello successivo, diciamo. Proprio due livelli diversi. Poi, l'ultimo punto che secondo me è molto interessante perché vedremo al lancio, non so se al lancio... no, al lancio, sì, avremo la patch per PS5, Xbox Series X per quanto riguarda Legion, quindi da quel punto di vista dovremo aspettare, ugualmente per Valhalla. però mi interessava capire come gira su PlayStation 4 Pro e in questo caso su PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 Liscia, quindi come gira effettivamente su console di current gen? Allora, come tutti i giochi Ubisoft a livello artistico, creativo, c'è poco da dire, c'è una cura dei colori, dell'illuminazione, degli stili, delle decorazioni degli ambienti, è veramente spettacolare. Londra è bellissima e in HDR gira benissimo, si vede veramente bene. Non c'è poligonalmente una resa dei personaggi o di altri elementi incredibile, anzi ci sono alcuni punti dove proprio ci sono penetrazioni poligonali, la resa di alcuni oggetti lascia veramente a desiderare, però in generale la resa è interessante, non rallenta mai, ci sono dei bug, ma mai cali di framerate. Esatto, se rallenta per esempio durante questa registrazione è perché l'encoding di... Sì, sì, no, no, il gioco... Non è il gioco? No, non è il gioco, sempre è stato fluido, l'unico calo di framerate ce l'ho avuto solamente in una cutscene dove all'improvviso da motore di gioco si è passato a elemento del... in game engine con sotto un video, palesemente un video, presente quando sovrappongono no? Quegli elementi e lì c'è stato un piccolo dato di framerate, però... Però perché adesso praticamente l'hai... cioè addirittura è stato talmente tanto raro che ti ricordi esattamente il momento in cui... Perché è stato uno solo, è stato quei dieci secondi lì che è stato... è proprio perché è stato l'unico, è stato così evidente, ma negli altri... Essendo stato posticipato così tanto non mi aspettavo assolutamente che avesse problemi di tipo tecnico, cioè quello veramente... C'è anche da dire che stiamo parlando di Watch Dogs 2 a Londra, eh? Non è stato aggiunto nulla di che... Sì, 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 lo stesso effatto grafico. Su Londra hanno fatto un lavoro pazzesco, però il motore grafico... Di direzione artistica, però in Londra non lo so. Sì, no, di resa della città, di fedeltà, di... Giochi di luci, il modo in cui hanno disegnato comunque una Londra dove c'è una distopia orwelliana all'interno, quindi il Big Ben con... Adesso qui l'avevo liberato, si vede, ma l'avevo già liberato con questi mega schermi dell'Albion che diceva... Vi teniamo sicuri. Con questa inquadratura appunto del drone, quanto è dettagliato anche sulla distanza, comunque la città, l'impatto è davvero davvero... Sì, ma poi qui c'è l'ondona artisticamente, poco da dire. Ubisoft è maestra su queste cose qui. C'è da dire, da sottolineare, che non hanno fatto cose fuori di testa in termini di resa dei personaggi, delle animazioni. è praticamente Watch Dogs 2, quindi sull'assenza dei bug o quantomeno di bug veramente importanti non sono così tanto sorpreso perché, diciamo, vincevano facile. Però è giusto dirlo che alla fine i bug sono stati pochi, qualche crash di qualche cutscene... Possiamo rompere il topos di Ubisoft bug che si tira avanti da Unity. C'è stato qualche elemento di deficienza artificiale, dove ogni tanto i nemici si bloccavano e iniziavano ad andare verso il muro... Anche l'IA non è incredibile, insomma. No, no, no. Quella dei droni... Madonna, quella dei droni è una roba... Incredibile, funziona benissimo. Quando hai tre doni contro, uscirne vivo è pazzesce. Molto figo questo discorso, molto figo, molto figo. Quindi ci hanno fatto un lavoro... Forse perché magari, non lo so, gli ARI e i droni forse magari ci hanno lavorato un po' di più perché comunque è una meccanica corte in gioco, insomma. Ci hanno lavorato tantissimo sui droni perché si vede che hanno fatto proprio un lavorone in termini di resa, di dinamicità, di fluidità. era la meccanica più nuova ma anche quella lì che meno ti dà fastidi, meno ti dà problemi. Sì, quella più rifinita, insomma. Molto meno polished quella lì dello Spider-Bot, ad esempio, no? Con questi salti che a volte si bloccano con degli ostacoli a mezz'altà. E poi ricorda un po' la macchinetta di Watch Dogs 1 e 2, se non sbaglio, no? C'era questa macchinetta in due. Sì, sì. Esatto, ricorda un po' quella meccanica lì vedendolo. Poi mi sembra che lo Spider-Bot sia un pochino più agile però ricorda un pochino... Sì, il problema è che può fare veramente tutto. Cioè ci sono dieci missioni che non puoi fare con lo Spider-Bot in tutto il gioco. Effettivamente, se mi dici così... Tutte le altre hai l'obbligo di... cioè hai la possibilità di sederti fuori e lanciare lo Spider-Bot dentro e se sei abbastanza bravo da farlo muovere come si deve il gioco ti permette di uscirne tranquillo e indenne. Quindi direi che abbiamo detto praticamente tutto del gioco fino a prova contraria. Dacci il voto a questo punto, così che concludiamo. È un mediocre sette e mezzo. Un mediocre sette e mezzo. Non è un brutto voto. Piacerà a chi ha amato Watch Dogs probabilmente perché siamo sempre lì però per me, per i miei standard non è un buon voto perché in generale... Perché parliamo di un tripla e non un giochetto... No, ma... Con poche risorse, insomma... E anche quello che ti lascia il gioco dopo 40-50 ore di gioco è un... No, caspia, è sempre la stessa cosa. Basta. E soprattutto un gioco con questo potenziale che poteva veramente fare tanto di più in termini sociali, in termini di concept. Ti fa ancora più rosigare perché effettivamente il concept ha un valore notevole. Tant'è che appunto quando fu annunciato io ero molto molto interessato perché pensavo che potesse essere... Ma anche io. ...un po' una svolta per il franchise. No, invece troviamo l'ennesimo tripla A mediocre che si becca il sette e mezzo. Speriamo a questo punto che Valhalla sia più interessante. Lo vedremo... Speriamo... Non sono così fiducioso come... Quello lo recensirò io, quindi speriamo che lo sia. È interessante. E poi penso che parleremo anche di Legion quando usciranno le console next-gen per appunto fare i vari confronti. E niente, quindi grazie a tutti per averci seguito. La recensione di Legion la trovate in questo momento su Lega Nerd perché è poi un'escavuto l'embargo. E quindi nulla, ragazzi. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie Simone. Ciao, ciao. Ciao.